buongiorno a tutti ragazzi sono qui per l'apertura della casella successiva oggi 6 dicembre ieri abbiamo aperto la casella numero 5 oggi apriamo la casella numero 6 che sarebbe questa qua che sta sotto la numero 2 oggi apriamo la casella numero 3 vediamo che ci sta buongiorno a tutti ecco qua nella casella numero 6 abbiamo tipi abbiamo a tipi che è questo qua vedete che questo minifigure qua è tipi vedete che sta lavorando in una struttura vedete ok questo è tutto noi ci vediamo domani con la casella successiva ciao ragazzi